Ciao a tutti, benvenuti su Touch Gaming. In questo video tutorial vi parlerò dei Power Toys, ma in particolare di Fancy Zones, un Power Toys di Microsoft davvero molto 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 utile. Per prima cosa naturalmente dovete scaricare il Power Toys, lo strumento, e naturalmente attivare il Fancy Zones. Ora, il Power Toys è scaricabile tramite il sito che vi riporto nella descrizione del video. Per quanto riguarda invece Fancy Zones è già incluso nel pacchetto, ma va ovviamente configurato. Che cos'è Fancy Zones? Fancy Zones è uno strumento davvero molto utile. Se avete un solo monitor a disposizione e lavorate su più finestre, ad esempio Whatsapp, Telegram, Chrome, Editor Video, eccetera, eccetera, allora disporre le finestre in modo da averle tutte sotto controllo con un solo display potrebbe tornarvi molto utile. Come funziona? Cliccando su Edit Zones, come vedete ci sono diversi layout che naturalmente possono essere modificati all'occorrenza. Se ad esempio volete quattro suddivisioni, quindi quattro mini desktop, se così possiamo definirli, allora selezionate quattro, scegliete il tipo di griglia e cliccate su Apply. Io scelgo questa e clicco su Apply. Ora, quando volete avere quattro finestre nel modo in cui vi ho mostrato, non dovete fare altro che ad esempio aprire quattro finestre a caso, così. Quindi, vi do la dimostrazione, apro quattro finestre. Ok. Adesso, tengo premuto il tasto Shift sulla tastiera e clicco con il sinistro del mouse sulla finestra senza rilasciare né il tasto Shift né il tasto del mouse, e sposto la finestra dove voglio e poi rilascio. Quindi, come potete vedere, adesso avrò un risultato di questo tipo. In questo modo, io ho quattro finestre ben disposte all'interno di un solo monitor. Una funzionalità davvero molto molto utile. Se questo video vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming, e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.